C'è tanta gente, lo sapevamo, il personaggio è molto importante e quindi era inevitabile ed è anche, siamo molto contenti, cerchiamo di risolvere i problemi logistici, come sapete stiamo facendo un po' delle prove, nel senso che stiamo provando lo spazio, stiamo cercando di capire se realmente come reagisce, come funziona, stiamo provando diciamo la verità anche il pubblico, quindi siamo un po' tutti delle cavie, delle cavie di questo centro che ancora non è aperto ma sta cercando di fare i primi passi, i primi nuovi passi dopo una stagione ovviamente importante che c'è stata. Allora come sapete questo ciclo che chiamiamo cambiamenti, ha già visto alcune figure internazionali molto importanti, l'ultima volta c'è stato Edwin Bendek che è un giornalista polacco che ci ha parlato, guardate un po', proprio della situazione in alcuni paesi dell'est come in Ucraina, Russia e quindi diciamo luoghi dove i cambiamenti sono all'ordine del giorno, dove stanno accadendo proprio anche in queste ore, quindi il concetto è che siamo in un mondo che sta cambiando molto rapidamente e ciascuno dei personaggi che viene, secondo la sua professione, secondo le sue conoscenze, ci dice il proprio punto di vista sulla rispettiva materia, sulla propria materia, che cosa sta cambiando, come sta cambiando, perché l'idea è che siamo un po' in un mondo in cui i cambiamenti producono un caos estremo, si svolgono estremamente rapidamente, facciamo fatica a capire in quale direzione stanno andando. Ecco perché non dico che i personaggi che vengono abbiano loro in tasca e ci portino delle soluzioni, ma almeno ci aiutino a fissare dei pali, dei paletti, a dare dei riferimenti che poi ognuno di noi userà come meglio crede. Francesco Bonami lo conoscete, è curatore internazionale, è il curatore italiano internazionale per eccellenza, è colui che dagli anni 90 in poi ha rappresentato l'Italia nel mondo, ha curato molte mostre in America, è stato per una decina d'anni, senior curator del museo di Chicago, ha curato negli anni un po' nel 2003 una importante biennale di Venezia, io lo dico non per piageria, ma diciamo la verità, è stata una biennale secondo me ancora non superata nell'idea di coinvolgere artisti di tutto il mondo, più curatori, perché probabilmente oggi non è nemmeno possibile che ci sia una sola persona in grado di capire, di sapere esattamente tutto ciò che sta succedendo e quindi l'aiuto, la collaborazione con tanti curatori e anche il coinvolgimento di decine e decine di artisti da tutto il mondo, di tendenze diverse, quindi una biennale se vogliamo un po' caotica ma che meglio di tutte in fondo negli ultimi anni ha rappresentato, credo ancora oggi, rappresenti la situazione di questa globalizzazione anche rampante e che ci sta invadendo. Il titolo della sua, della presentazione è un titolo un po' particolare, lo sappiamo è persona anche ironica, abile nell'inventare titoli talvolta appunto anche ironici e il titolo è Dall'orinale all'orale, la fine dell'arte contemporanea. È un titolo se vogliamo un poco provocatorio, faremo alcune domande, cercheremo con lui di capire che cosa si tratta, cosa sta pensando proprio appunto su questo sviluppo dell'arte contemporanea dall'orinale, immagino sia quello di Duchamp all'orale e ci dirà lui di cosa si tratta e appunto la fine di questo concetto dell'arte contemporanea. A Francesco Bonami la parola. Buonasera e grazie per essere venuti così tanti stasera, grazie a Fabio Cavallucci che ci conosciamo da tanto tempo e questa è un'occasione per rivedersi qui e vedere tante anche altri amici che sono qua stasera. Il titolo, io ho questo problema, invento i titoli però poi devo immetterci dentro i contenuti. Dall'orinale all'orale è un titolo di un probabile libro che sto tentando di scrivere però adesso che ho inventato il titolo ho il problema di dover creare una sequenza di contenuti che mi portino dall'orinale appunto all'orale. L'orinale è quello che hai detto te, il famoso ordinatoio La Fontana di Duchamp del 1917 e l'orale è quello dell'artista tedesco Tino Segal che è quest'artista che non le sue opere sono persone che parlano dentro un museo raccontando a volte storie o a volte spiegando delle teorie o a volte facendo soltanto dei gesti come il bacio di Tino Segal erano due, un ragazzo e una ragazza che si baciavano prendendo posizioni di baci famosi dal bacio di Klimt al bacio di Rodin, ai vari baci della storia di Hayez, della storia dell'arte. La mia idea è che forse l'arte contemporanea è stato, è un ciclo come tanti cicli della storia dell'arte, dal rinascimento al manierismo, al barocco, un ciclo che è iniziato appunto con Duchamp che capovolge sia fisicamente che anche metaforicamente il mondo dell'arte con questo oggetto e aprendo diciamo le cascate della sperimentazione, della provocazione che arrivano appunto oggi fino a Tino Segal che però Tino Segal in fondo ritorna forse all'inizio, ritorna alla tradizione orale prima delle immagini quando la gente si raccontava storie e si raccontava immagini e forse da lì si riparte e gli artisti forse, non so come si potrà chiamare o se si chiamerà in un modo diverso, nel nuovo periodo dell'arte vorranno raccontare storie in modo diverso, c'è il momento della sperimentazione ma poi c'è il momento anche del racconto e credo che si stia entrando in un'epoca in cui il racconto ritorna a essere essenziale per l'arte. Ecco, quindi tu immagini questo ciclo ormai terminato con Tino Segal, è un nuovo ciclo di racconto, di narrazione con nuovi artisti immagino, ma pensi che questo accadrà sempre nei luoghi che conosciamo, nei musei, oppure si svolgerà in altri spazi, nei musei, nelle gallerie, oppure magari si svolgerà su internet, si svolgerà su Facebook, si svolgerà nel mondo virtuale o in quello reale ma in altri spazi, cioè l'arte in fondo ha sempre avuto luoghi diversi dove si è sviluppata, c'è stata la chiesa, c'è stato un certo momento quando sono nati i musei, ma di solito hanno raccolto delle opere, in fondo l'invenzione del museo d'arte contemporanea, dove si svolge l'arte contemporanea, è un'invenzione piuttosto recente. Ma io no, credo che i luoghi saranno un po' gli stessi, insomma un po' come la letteratura, in fondo poi cambia forse il supporto, un libro si legge sull'iPad, ma è sempre un libro, cambiano le pagine, ma il contenuto poi è quello, io credo che il museo, le gallerie rimarranno perché l'arte ancora ha bisogno di un'esperienza fisica, poi i luoghi dove si prenderanno, si pescheranno, si ispireranno gli artisti, quelli saranno diversi, c'è stata recentemente una mostra di un artista anche molto famoso, Richard Prince, che ha fatto una mostra con tutte immagini tirate fuori da Instagram, però poi la mostra era in fondo convenzionale in termini di supporti, di spazio, però il soggetto, l'ispirazione arrivava da un altro mondo, un mondo fatto di selfie dove l'uomo vitruviano adesso è diventato l'uomo che riesce, il telefonino è diciamo il metro di misura, la distanza del telefonino dal corpo è il metro di misura del nuovo uomo vitruviano, dell'individuo vitruviano, quindi i punti, i luoghi dove gli artisti si andranno a cercare saranno diversi sicuramente, però poi i luoghi dove verranno mostrati, io credo che questo museo lo dimostra, tanti altri musei, saranno gli stessi, c'è bisogno di un'esperienza, c'è bisogno di luoghi anche collettivi dove la gente va e credo che quello un po' non finirà, non credo insomma, basta vedere anche i musei forse non in Italia ma di tutto il mondo che sono sempre pieni abbastanza di gente e quindi vuol dire che a qualcosa, lo spazio fisico serve ancora. Ecco io mi permetto di insistere su questo perché se è vero che la Tate Modern, il MoMA, il Guggenheim, cioè le grandi mecche dell'arte contemporanea sono effettivamente molto frequentate, anzi ci sono spesso file di persone, poi in realtà se si comincia ad andare, che so, dal centro di Manhattan, dal MoMA, ci si sposta verso il PS1 che in realtà è 5-10 minuti di metropolitana a distanza dal MoMA, in realtà il numero delle persone diminuisce, c'è ancora, devo dire, mi pare che stia anche facendo una buona attività, ma in qualche modo se poi si va a Quinsche, molto più lontano, beh allora lì cala drasticamente, se invece si sale a nord verso il museo di Harlem o quello del Bronx, beh addirittura ci troviamo spesso in sale vuote, come un museo pecci chiuso. Allora è proprio vero che c'è ancora questo interesse per l'arte nei paesi, tu conosci il mondo, giri, nei paesi stranieri o questo vale soltanto per le mecche, per i luoghi che anche da un punto di vista così di mito sono usciti dal sistema dell'arte, sono entrati nel sistema della mitologia di massa collettiva. No, credo che ci sia, il problema non è tanto che c'è meno interesse per l'arte, che i luoghi dove si mostra l'arte si sono tutti ingranditi in fondo in modo spropositato e spropositatamente. Un tempo c'era il MoMA, ma c'era anche la signora Marsha Tucker che dal Whitney si spostava giù a Soco e inventava il New Museum, che era uno spazio, l'arty space, che erano spazi di ricerca alternativi che lavoravano anche con criteri diversi dal MoMA o dal Whitney o dal Metropolita o dalla Tate. Oggi tutte le istituzioni che siano piccole o che siano grandi lavorano con la stessa mentalità, lavorano con le stesse ossessioni, con gli stessi obiettivi e quindi è chiaro che i momenti di crisi sono più frequenti, perché il New Museum, che è un museo a New York molto più piccolo del MoMA, però ha la stessa mentalità, il board of trustees, la ricerca fondi, l'ossessione anche con il numero di spettatori che ci devono essere, gli spettatori di musei non sono fatti per essere vuoti, devono essere luoghi di attrazione e anche di intrattenimento. Però c'è un po' troppo l'ossessione con queste, non c'è più differenza fra una piccola istituzione locale e una grande istituzione come il MoMA oppure come il Metropolitan. Insomma un po' era come, un tempo c'erano le cattedrali in città, nel centro si faceva la cattedrale, quella grande, per un grande numero di fedeli e poi in campagna si facevano le piccole chiese per le comunità locali. E così era un po' l'idea, il museo che tutti chiamano appunto le nuove cattedrali avrebbero dovuto, dovrebbero rispondere a questa scala di densità. Invece spesso si costruiscono delle enormi cattedrali, non in deserti ma in luoghi dove è difficile arrivare la gente. Allora da lì nasce la crisi, nasce il problema, il problema, il PSO anche era in fondo un luogo molto alternativo, è stato inglobato dal museo di arte moderna il MoMA e da quel momento è diventato anche lì, ha avuto una pressione di programmazione, di pubblico, anche di budget, una pressione maggiore e quindi oggi ci va gente, anzi probabilmente ce ne va di più di quanto ce ne andava prima, però viene vista in rapporto al MoMA, quindi è sempre rispetto al MoMA e funziona meno. E quindi questo è il problema, il problema non è tanto che la gente non va ai musei, è che i musei vogliono tutti lo stesso tipo di pubblico. Senti, io vorrei tornare un poco, cercare di capire meglio cosa intendi per questo, per un ciclo chiamato arte contemporanea che termina con Tino Sigal e che quindi trova poi delle forme diverse, delle forme più narrative, più figurative, più neorealiste, cioè torneremo più vicine alla realtà, magari alla realtà comune di ciascuno di noi? A questo non lo so, non posso fare previsioni, però un po' era come, a di nuovo torno a fare l'esempio della letteratura, negli anni 60 c'era lo scrittore francese Rob Grier che sperimentava sul romanzo, scriveva romanzi sperimentali che però in fondo sono più difficili da leggere, raccontano una storia frammentata oggi e poi si ritorna sempre a leggere i romanzi romanzo a una sua struttura narrativa e credo che forse anche le opere d'arte avranno una struttura narrativa apparentemente più convenzionale, poi quello che c'è dentro di nuovo è la storia che uno racconta che è nuova, non come la racconta soltanto e credo che questa sarà la grande sfida degli artisti, riuscire a raccontare delle storie, riuscire raccontare, dare contenuti nuovi ha un modo di raccontare uguale, in fondo la gente parla, noi parliamo come parlavano persone 50-100 anni fa, però abbiamo contenuti diversi, non è che oggi uno urla per essere più contemporaneo oppure bisbiglia, parliamo nello stesso modo che si parlava prima, soltanto diciamo cose diverse e credo che questo forse sia l'equivoco, di voler sempre dire qualcosa di nuovo anche da un punto di vista visivo, quello è difficile. Senti c'è David Joselit che ha scritto un testo, un libro che credo in qualche punto di vista, da un certo punto di vista dice qualcosa di simile a quello che dici tu, il titolo è After Art, dopo l'arte e dice l'età dell'arte è finita, il periodo in cui gli artisti individuali hanno usurpato il mandato delle immagini è un breve periodo nella storia, preceduto da un'era premoderna di icone seguita da un torrente di immagini, cioè il torrente di immagini oggi è questo torrente di immagini, soprattutto immagino si riferisca a quelle che si trovano su internet, sui social networks, anche nuove figure che si affacciano, nuove star che in qualche modo crescono e si sviluppano attraverso l'immagine attraverso. Ecco, come pensi che si collochi la figura dell'artista in questa quantità di immagini? Perché se è vero che una volta, come dire, c'erano pochi autori di immagini capaci di realizzare immagini, quando l'immagine era per esempio soltanto un dipinto, soltanto chi sapeva dipingere ovviamente, poteva realizzare immagini, oggi tutti possono realizzare immagini. Allora che cos'è l'artista? Che funzione ha e come si individua? Questa è una grossa domanda, certo è cambiato tutto, quando nel tempo delle icone soltanto pochissimi le facevano, ma più che altro pochissimi, una minoranza le vedeva, credo, credo, ci sarà sicuramente il pubblico medievalista che mi contraddice, ma credo che durante il medioevo un contadino non vedeva un'immagine, un disegno, un'icona una, due, tre volte nella vita, non la vedeva, non aveva una frequenza con le immagini, chiaramente come l'abbiamo oggi e quindi l'artista diventa anche un editor, una persona capace di saper selezionare, ma quello è sempre stato insomma anche nella propria testa, capire quali sono le immagini che potranno diventare i veicoli per quello che lui vuole dire, ma in fondo anche con le parole, le parole sono tante, poi i grandi scrittori sono quelli che riescono a usare lo stesso linguaggio di tutti, però mettendoli insieme in un modo che dicano qualcosa di nuovo, o quantomeno di diverso. E cosa allora invece i curatori e le istituzioni, che sono stati almeno finora i meccanismi di selezione degli artisti, cioè i curatori, le gallerie e le istituzioni hanno lavorato per selezionare gli artisti, quale sarà la loro funzione, cioè in questo nuovo mondo dell'arte contemporanea come si dovranno comportare, come si dovranno muovere? Beh questo è un ruolo che è cambiato moltissimo proprio da quando io avevo cominciato a fare il curatore e paradossalmente il successo delle mostre, il successo dell'arte contemporanea, nel successo anche delle scuole di curatori, la nascita di nuove e tantissime istituzioni ma anche tantissimi giovani che fanno il mestiere del curatore o dei critici, ha cambiato il panorama. Quando sembra, in fondo sono vent'anni, un po' più di vent'anni fa, ma quando nel 1993 io curai una piccola parte di aperto alla Biennale di Venezia, era un mondo ancora molto per addetti a lavori. Io mi potevo permettere di mettere alle corderie la scatola da scarpe vuota di Gabriele Rosco, l'artista messicano e in fondo senza timore alcuno, non dovevamo neanche spiegare a un pubblico vasto, generico, per cosa quella scatola da scarpe volesse dire. Gabriele Rosco era un artista emergente, metteva la scatola da scarpe, eravamo tutti contenti e tranquilli, non ci ponevamo il problema delle reazioni di un signore che ha pagato il biglietto e si trova davanti a una scatola da scarpe vuota. Oggi non è più possibile, oggi il compito dei curatori, dei musei è quello di creare un ponte fra questa scatola da scarpe e opere d'arte che invece corrispondono di più all'immaginario del visitatore che è curioso però non è un esperto d'arte. Quindi come si costruisce questo ponte? Fare capire che è importante anche un artista come Rosco oppure come Duchamp e però fa parte di un percorso che non è unico, ai nostri tempi era unico, non c'era assolutamente nessun problema. Oggi non sarebbe possibile. Quando io ero a Chicago e che era un museo piccolo, il museo di arte contemporanea di Chicago, aveva solo due piari, un po' di collezione ma più che altro erano mostre temporanee, quando l'artista David Ammons, un grandissimo artista americano, difficilissimo da convincere a fare una mostra, un provocatore nato, disse che avrebbe fatto la mostra al museo di arte contemporanea di Chicago ma voleva fare la sua mostra di ombre, ovvero sia, era una mostra in cui alle pareti si vedevano soltanto il segno di quadri che c'erano stati lì ma non c'erano più. Io avevo visto quella mostra in Giappone in una galleria privata e devo confessare che se avessi pagato un biglietto d'aereo per andare a vedere, o anche un biglietto di entrata e mi fossi trovato dentro, la cosa lì forse un po' snervato, mi sarei snervato anch'io. Non fu possibile fare la mostra perché noi non potevamo come istituzione pubblica, anche se era fondata da privati, offrire per tre mesi un museo vuoto con la mostra di David Ammons. Non potevamo fare pagare un biglietto, il museo americano pur essendo totalmente finanziato da privati è un servizio pubblico e il direttore sopra di me e tutti, per noi era chiaro che non era possibile fare un'operazione del genere e quindi il compito di noi curatori è riuscire a far vedere David Ammons e altre cose, creando non tanto una separazione ma un dialogo, un intreccio tra questo tipo di espressioni artistiche. Senti, spesso hai criticato il centro peci? No, spesso no, qualche volta. Qualche volta hai criticato, una volta hai detto sicuramente il centro peci è nato morto. Cioè in Italia si confonde, cioè tutto diventa una persona, no? Nel senso che un edificio è un edificio, non cammina, non parla, si può discutere con un paio di scarpe. No, ma io ti voglio chiedere, ti voglio chiedere cosa intendi, cosa intendi e soprattutto se proprio non vedi nessuno spirale. Se io dico che non mi piacciono le scarpe di Ferragamo, non dico che il signor Ferragamo è un cretino. Ecco, capito? È una questione, se mi stanno strette vuol dire che è un problema di scarpe. Ma dimmi un po' del tuo rapporto con il peci e della tua visione. Quando sono venuto qui mi ha fatto anche abbastanza impressione, perché io visitai il centro peci in costruzione, ora io non mi ricordo bene le date, ma sarà stato il 1984 perché ero ancora a Firenze, e veni, non mi ricordo portato da chi, io a quei tempi ero un artista, un pittore, e con un gruppo di persone venimo qui e con Amon Barzel visitammo appunto quelle stanze, ora faccio una battuta di spirito, che erano vuote come oggi. E quindi visitandole con te ho rivissuto che ho avuto un déjà vu di entrare nel museo come quando era... e a quei tempi io ricordo che per me era una cosa emozionante perché il centro peci era una nuova frontiera di museo, era qualcosa a cui veramente io come artista mi sarei tagliato un dito per essere preso in considerazione per la mostra inaugurale. Poi però a quanto pare le cose sono andate in modo diverso e sono andate male. Io critico, non è che critico, io dico che era un esperimento molto innovatore negli anni Ottanta che però forse non tende conto in quel momento di come sarebbe andato il mondo dell'arte, ma ripeto, in tante parti del mondo. Il Museo di Arte Contemporanea di Chicago, disegnato dall'architetto Claius, buttando giù una caserma dell'Ottocento che era lì nel centro di Chicago, fu inaugurato credo una settimana prima o una settimana dopo il Guggenheim di Bilbao di Frangheri. Il Museo di Chicago non è mai stato un museo, anche quando c'ero io, che si è mai ripreso da questo errore architettonico. Era un edificio sbagliato in quel momento, pensavo che fosse un edificio giusto, ma chiaramente era in ritardo sui tempi, non si pensava in quel momento lì al Guggenheim. Quindi il mondo si girò tutto dall'altra parte e il Museo di Arte Contemporanea di Chicago ha sempre fatto fatica a funzionare come doveva funzionare. Perché purtroppo è come un artista, ci sono artisti che sono esattamente in sincronia con i tempi e raccontano e quindi diventano di successo, fanno parte ai tempi, altri artisti anche bravi che però sono fuori sincronia e quindi non mancano un attimo, il tempo entrano in ritardo sulla palla in termini calcistico. E così, quindi non era una critica. Negli anni 80, quando questo edificio fu tirato su, era veramente una cosa che tutti guardavamo con un'enorme amminazione e impressione. Poi chiaramente qualcosa non ha funzionato, oppure i tempi sono cambiati in modo diverso. Naturalmente noi poi speriamo che invece... Io quindi con te mi auguro che tutto funzioni. Senti, Prato e Firenze. Tu sei fiorentino e qui siamo a Prato e tu sai, forse meglio di me, addirittura che c'è una vecchia storia di rapporti e di concetti artistici, diciamo. Come vedi il futuro di questo rapporto? Cioè, per esempio, Firenze non ha mai fatto, non ha mai realizzato un centro per l'arte contemporanea, Prato invece l'ha realizzato, potrebbe questo diventare un punto centrale? Devo dire ora, non so se... Firenze, devo dare atto che qui almeno un museo è stato costruito, è stato costruito anche una nuova dimensione. A Firenze invece non hanno mai fatto nulla, c'è il famoso meccano tessile che è rimasto un cantiere, anche quello ancora più sbagliato, perché non aveva neanche avuto un'idea architettonica interessante. È stato un cantiere che è rimasto, che ha sperperato un'enorme quantità di denaro incredibile per anni, decenni, e poi alla fine non so neanche neanche cosa ne è stato fatto di quell'edificio. Quindi Firenze è una città che ha dei problemi maggiori di quelli di Prato, credo che abbia forse più di Prato questo passato, questo fatto di città turistica che la opprime e quindi dovrebbe forse investire fuori da se stessa, perché chiaramente lì non mi sembra che si abbia una visione contemporanea. E forse bisogna anche ammettere che non tutte le città devono essere contemporanee, non tutte devono avere un centro d'arte contemporanea, ci sono altre città che vivono di altre cose. Lamporecchio vive con i brigidini, per esempio, e nessuno vuole metterci dentro una pizzeria, capito? Senti, tu sei stato anche, tra le varie cariche che hai avuto e che hai, sei stato anche direttore di Pitti Discovery, che credo abbia fatto delle iniziative estremamente interessanti, mi ricordo ancora molti anni fa, venivo a vedere il primo video di, che so, il film di Matthew Barney o il primo video di Pipilotti Rista, eccetera. Ecco, però la mia domanda è che rapporto vedi tra arte e moda? Cioè, è un possibile, qui siamo a Prato dove tra l'altro c'è stata, c'è ancora una produzione tessile importante, credi che ci sia ancora una possibilità di elaborazione di progetti comuni tra arte e moda? Marco, lì, con Pitti negli anni 90 avevamo questa idea di fare questo piccolissimo spazio dove erano altri tempi, come ho detto, erano tempi dove non c'era, particolarmente in Italia non c'era la competizione, bastava avere dei fondi leggermente superiori a qualsiasi istituzione pubblica e potevamo portare gli artisti più importanti del mondo in città. Poi i tempi sono cambiati, per fortuna ci sono state tantissime realtà diverse e quindi poi è diventato molto più difficile fare una programmazione come la facevamo appunto. Il rapporto fra moda e arte è un rapporto fondamentalmente, sono due mondi diversi, perché gli stilisti non sono artisti, gli stilisti producono dei indumenti più o meno belli o più o meno di successo, però gli stilisti più intelligenti sanno di non essere artisti. La moda è un sistema economico, l'arte ha sempre di pesa dai sistemi economici forti e quindi il rapporto secondo me è questo, un rapporto economico, chiaramente avendo a che fare con un aspetto creativo, la moda forse guarda l'arte contemporanea anche come fonte di ispirazione per una produzione più innovativa. Quindi c'è un rapporto così di scambio, l'arte piglia l'economia della moda e la moda ogni tanto piglia delle idee del mondo dell'arte. Questo sia un rapporto molto semplice e molto lineare. Torniamo all'argomento appunto tra arte ed economia, forse posso chiederti qualcosa in più, per esempio arte e mercato, diciamo la verità, negli ultimi decenni ciò che ha determinato soprattutto la selezione del principio, del concetto di valore nell'arte principalmente è stato il mercato, sono state le aste, sono state le grandi fiere, sono state le grandi gallerie che hanno sostenuto artisti e venduto artisti a valori molto alti. Credi che in questa immagine di cambiamento che in qualche modo individui ci sarà anche un cambiamento nel sistema di mercato o perlomeno nel sistema di valore che viene attribuito al valore di mercato? Il mercato adesso in effetti è abbastanza incredibile come le fiere, il mercato influenzi un po' anche la produzione artistica ma le programmazioni artistiche. sicuramente tutti sono influenzati da un andamento abbastanza stravolgente dell'economia dell'arte dovuto al fatto che sono intervenuti nel panorama artistico una quantità di soggetti e di fondi che prima non esisteva di nuovo, noi parliamo fino alla fine degli anni 90 la Russia non era un paese che era visto come un possibile investitore nel mondo dell'arte adesso in Russia, la Cina, l'esempio più incredibile è il Qatar che è un piccolissimo stato con delle risorse immense che ha ammassato collezioni di tutti i tipi e di tutte le forme in pochissimo tempo queste erano situazioni che non esistevano prima l'arte ha sempre dipesa come ho detto prima dai grandi mecenati, dai grandi collezionisti un certo tipo di arte l'America è sempre stata un paese che ha saputo coniugare le due cose abbastanza bene nel senso che era un paese di grandissimi collezionisti che però sentivano la necessità e la sentono ancora di trasformare quella loro passione in luoghi pubblici quindi regalano collezioni ai musei, aiutano a costruire musei e quindi diciamo che il rapporto pubblico privato è molto non ambiguo, è molto di scambio poi c'è la sensazione che loro hanno la possibilità di scalare dalle tasse quello che loro donano pubblicamente però quello non è soltanto il primo, quello è una cosa che sicuramente stimola ma lo stimolo principale è di orgoglio civile egoistico perché non è che i collezionisti americani siano generosi anzi sono egocentrici più di tanti altri però si identificano con i luoghi dove loro sono attivi quindi un collezionista di Chicago dà soldi al museo di Chicago ai musei di Chicago, alla filarmonica di Chicago agli ospedali di Chicago perché è orgoglioso e vuole che la gente che viene a Chicago sappia e veda il risultato della loro ricchezza quindi non è una questione di generosità è una questione di dimostrazione dimostrazione di potere però a vantaggio cioè che ne beneficiano anche quelli che non fanno parte del mercato quelli che non collezionano l'arte e via di seguito e quella è una cosa che in Europa non è così diffusa il mercato a volte viene demonizzato a volte viene ignorato credo che faccia parte di un sistema a volte con degli eccessi ma sono eccessi fini a se stessi nel senso che ci può sembrare vergognoso o immorale spendere 300 milioni per un quadro di Gauguin ma i signori che pagano a 300 milioni un quadro di Gauguin sono anche signori che danno 3.000 milioni ad attività a volte umanitarie a volte non umanitarie però insomma dico è sempre una percentuale molto bassa di quello che poi vengono questi personaggi utilizzano non è che se loro non spendono 300 milioni sul Gauguin li danno a qualcuno un altro a noi no purtroppo e quindi il mercato viene visto in modo demonizzato ma mi sembra insomma inutile vederlo così è sempre stato no? non è che i medici quando davano una commissione ai loro artisti lo facevano per appunto i contadini della campagna toscana lo facevano per dimostrare il loro potere al re di Francia agli altri loro competitors ecco però in qualche modo l'arte affidandosi in gran parte al sistema del mercato si è affidata al sistema capitalistico corrente che oggi evidentemente mostra anche alcuni limiti soprattutto nei nostri paesi in Europa sappiamo bene siamo in situazioni di crisi di crisi finanziarie di crisi economiche non pensi che questa crisi possa anche influire sul sistema e modificarlo? beh la crisi economica i soldi non ci sono mai soldi io non io non so da quando lavoro nel mondo dell'arte non ci sono mai soldi non ci sono mai stati soldi da un punto di vista pubblico i soldi non ci sono mai stati è sempre stato così quindi la crisi il mondo dell'arte è sempre stato in crisi eccetto alcuni appunto piccole piccole sacche di benessere è un mondo elitario è un mondo esclusivo gli artisti i grandi artisti sono in fondo non tantissimi e quindi è sempre è sempre stato così le crisi le crisi dovrebbero portare a spendere soldi meglio perché i soldi che ci sono forse sono spesi male quello io quando ero direttore del centro di arte contemporanea di Villa Manini in Friuli Venezia Giulia 1500 abitanti l'intero Friuli la regione Friuli Venezia Giulia per 1500 abitanti per la cultura aveva ogni anno 44 milioni di euro a disposizione e era in crisi non avevano i soldi li finivano sempre ora ognuno può fare i conti che vuole però vuol dire che i 44 milioni di euro venivano spesi forse un po' dissenatamente perché mi sembra impossibile eppure è così se noi percorriamo andiamo a vedere perché poi non si sanno mai veramente le cifre se noi andiamo a vedere i fondi a disposizione della cultura si diminuiscono però a volte sono sempre superiori a quelle che uno può immaginare quindi credo che è una questione di focalizzare e di fare anche delle scelte no? tanti tempo fa ci venne sul Corriere della Sera la lista dei soldi che vengono dati dal Ministero dei Beni Culturali dalle fondazioni e erano la somma totale era enorme ma la fondazione Crasti prendeva 20 mila euro l'anno come il gabinetto VSE oppure cioè venivano spazi spalmati così decine di migliaia di euro ma senza un criterio perché è chiaro che ci sono delle istituzioni che hanno più bisogno di soldi altre di meno non si può per evitare polemiche dire che appunto una cosa deve avere i stessi soldi di un'altra in modo che si sono stati tutti zitti è un modo sbagliato e appunto poi quindi fondi secondo me la crisi la crisi viene anche da una mancata presa di responsabilità e credo che il fatto della responsabilità è una cosa che particolarmente in Italia ora c'è stato il ministero dei beni culturali che ha cambiato le regole per i direttori dei musei ha messo annunci sull'economy perché è così che si per dare credibilità a un cambio l'economy si mette sull'economy se la cosa acquista una rilevanza internazionale è assolutamente vero il problema è di dare responsabilità a chi dirigerà questi musei responsabilità viene anche con un compenso adeguato nel senso che non è che il direttore del metropolitano che piglia 600 mila ora molto di più probabilmente un milione duecentomila dollari l'anno di stipendio li piglia a vampera è un signore che ha una responsabilità e che se non questa responsabilità non la non la non dà dei risultati viene licenziato dall'oggi al domani quindi questo dico il l'onore viene anche con il rischio e questa è una cosa che nella nostra mentalità non esiste senti nel tuo ultimo libro credo l'ultimo pubblicato curator autobiografia di un mestiere misterioso questa figura del curatore che è un po' appunto un'autobiografia in cui racconti anche talvolta in modo ironico alcuni momenti della tua storia personale della tua crescita anche dell'attività nel campo come curatore però a un certo punto dici il nostro mestiere è esenzialmente inutile questa constatazione non significa che il nostro lavoro non sia importante l'inutilità è ciò che consente al mondo di non implodere come una bomba atomica cosa intendi cosa vuol dire cos'è l'inutilità del curatore la maggior parte delle attività umane sono inutili se noi andiamo a vedere un pilota di formula 1 è tanto inutile quanto un curatore un calciatore è inutile a parte le poche le poche attività che producono cose che producono economia oppure un medico un infermiere le attività umane sono del tutto inutili il curatore è abbastanza inutile è una figura che in fondo non esisteva fino alla fine del settecento era una figura che non esisteva il curatore era uno che si prendeva cura come dice la parola delle opere d'arte delle collezioni era lì che guardava che le opere non venissero non si danneggiassero che non si sperdessero venissero catalogate quindi poi a poco a poco è diventata questa figura un po' di imprenditore di semiartista autore il grande curatore Harald Zeman in fondo era quello che ha inventato questa figura di quasi sciamano questo personaggio in grado di c'era un altro grande curatore Jan Hurt che per Luigi Tassi che qui con cui ha lavorato che era una figura assolutamente anomala non era un non si prendeva cura credo di nulla se non dell'idea di costruire una mostra di creare un evento eroico attorno a una mostra e questo in fondo è servito quindi era inutile ma è servito a dare una dimensione diversa alle mostre era appunto il curatore è diventato poi il sacerdote che raccontava a un pubblico meno specializzato il racconto dell'arte no? e gli davo diciamo una cornice così quindi essere inutili non è poi così no? brutto assolutamente no? c'è un altro passo del libro in cui dici il futuro di solito lo fanno altri ed è meglio aiutarli a costruirlo che provare a impedirglielo questo certamente non ci salverà dal provare una terribile invidia nel vedere l'energia dei giovani farsi avanti raggiungerci e superarci ma il sorpasso è inevitabile allora tanto vale concepire la propria vita e la propria carriera come una staffetta dove a un certo punto se si vuole vincere si deve passare il testimone al più giovane che sta arrivando e allora ti chiedo chi sono questi giovani come li vedi cosa che staffetta vuoi lasciare a questi giovani se non hai la staffetta non si lascia te la piglia te la strappano di mano arrivano e te la strappano di mano no? di fatti è così anche nella corsa alla staffetta uno sta in quello con la staffetta sta fermo arriva quell'altro e la porta via no? alcuni sbagliano e non la prigliano e siamo costretti noi a continuare a correre ma è inevitabile cioè le generazioni si alternano fa venire rabbia quando uno più giovane fa venire rabbia perché fa parte della vita uno invecchia e quindi vorrebbe essere sempre io come tanti altri miei colleghi capiamo l'inevitabilità della cosa e quindi abbiamo lavorato con altri giovani curatori che poi si sono fatti allo strada io sono cresciuto invece in una generazione in cui i pochi curatori che c'erano non te la staffetta non te la davano e si fanno anche i nomi o no? ma lo so erano pochi quindi i nomi si possono fare non so e quindi poi siamo stati costretti a essere violenti nel portargli via la staffetta però è colpa loro no no non nostra ecco però anche quando vedi un giovane che prende la staffetta e la porta via qualcosa ti dà se sei ancora in corsa che cosa ti stanno dando questi giovani? che cosa ti stanno dando questi giovani? beh i giovani sono molto egocentrici e quindi avendo sofferto uno impara essere molto più cattivo dei i giovani sono io li chiamo la generazione che è venuta dopo di me dei codardi rampanti nel senso che ma non è questione non è una questione di persone è una questione proprio di generazione quando facevo il curatore io la visibilità era una cosa che non esisteva non esisteva la comunicazione nessuno pensava a farsi fare articoli sui giornali si faceva si tentava di guadagnare quel centimetro quadrato di spazio e poi di continuare a portarlo avanti poi per fortuna le cose sono cambiate il mondo ha dato più attenzione a quello che facevamo c'è stata più informazione più visibilità più comunicazione quindi con più visibilità aumenta la paura perché quando sei e credo che molti giovani vogliano arrivare sulla vetta però senza quello che ti porta allo zaino potrebbe essere il tuo nemico quindi sono sempre attenti a non dire cose a fare cose quindi manca un po' di coraggio ecco quello che vedo nella generazione più giovane che manca la mia generazione aveva coraggio ma non perché eravamo coraggiosi perché no? bisognava averlo non c'era così la porta era chiusa ti dovevi buttare dalla finestra no? e quindi saltavi dalla finestra ma oggi che la porta è aperta appunto i giovani preferiscono andare giù per le scale anziché buttarsi alla finestra non gli si può dare tutti i torti ma è sempre stato così insomma quelli prima di di noi ci dicono sempre di che quello che facevano i nostri padri era sempre più no? c'è sempre il padre che ti dice io mi sono fatto un mazzo così ma insomma poi non era vero insomma se l'ha fatto il mazzo così è affari suoi io sono sempre il parere insomma ognuno fa quello che vuole comunque diciamo sei uno che ha fiducia nei giovani o comunque sei costretto ad averla ma sì io credo che è interessante se uno non se uno appunto ascolta i giovani capisce tante cose può avere anche informazioni i giovani tendono a darti a dirti tutto quello che fanno e se uno li ascolta bene ma a volte riesci anche a fregarli devi ascoltarli però capito? bene io direi c'è un pubblico particolarmente attento io passerei al pubblico il microfono e chiederei chi vuole cominciare a rompere il ghiaccio e fare qualche domanda dal pubblico Carlo Palli senta il direttore le ha fatto una domanda e lei ha dato la sua risposta nella faccia anche io non per polemizzare dunque alla domanda come mai lei disse che il pece era nato morto vale a dire lei ha dato una definizione netta dice il pece è nato morto invece ha risposto in maniera vaga vale a dire dice c'è qualcosa che non deve aver funzionato ecco ci dice per cortesia secondo lei ma anche per dare consigli per capire che cos'è secondo lei che non ha funzionato perché se ha fatto un'analisi così perfetta saprà anche perfetta no perfetta no dice il pece è un museo nato morto questa è una cosa col senno di poi perché ripeto quando sono venuto qui pensa ma allora col senno di poi chi ha sbagliato secondo lei i curatori che si sono avvicinati i direttori i consigli di amministrazione qualcuno se la cosa non ha funzionato ci sarà un siccome io non l'ho ne ancora capito questo fatto mi piacerebbe capirlo come mai forse forse non ha funzionato tutto appunto non ha funzionato il luogo non ha funzionato si è pensato che un museo in una città come Prato che non è grande potesse vivere un po' fuori dal centro e fuori io come ho detto prima secondo me i musei particolarmente in Italia funzionano quando sono hanno una centralità anche in tante altre parti d'Europa i direttori sicuramente a volte si sbaglia un direttore e poi non si riesce a correggere l'errore si continua a a Montbarzel chiamò non chiamò insomma suggerì Ida Padicelli che a quei tempi ricordo fu una sorpresa perché non aveva mai fatto il direttore prima e forse fu un errore quello e poi credo che non ci sia mai stato più un io credo che a volte come una macchina che con le ruote dentro il fango è inutile continuare a pisciare sull'acceleratore scendere e iniziare a spingerlo forse questo non è stato fatto colpecci ora c'è Fabio Cavallucci che augura a lui a voi a noi perché è sempre bene quando un museo funziona bene di fare un lavoro come si deve ho detto che siamo in un vuoto pneumatico fa addirittura paura a vederlo e tutti siamo artisti forse è questa la contemporaneità un voto pneumatico con tutti gli artisti e il voto pneumatico non sai che sono proprio tutti artisti spero di no no dal momento che sono qui sono tutti artisti no dovrebbe essere forse più piccolo lo spazio io consiglio sempre di fare gli spazi più piccoli particolarmente per questi incontri perché oggi stasera siete tanti ma se lo spazio era più piccolo sembrereste di più capito e forse questo forse un museo più piccolo per una città piccola è meglio mi permetto di rispondere io alla domanda che è stata fatta del perché il museo peci non ha avuto una ottima funzione prato dista dalla spezia in tempo reale circa un'ora e dieci dalla versiglia cinquanta minuti chiunque abiti in una città sa che in un'ora di tempo a stento in alcuni casi si attraversa una grande città ebbene il fatto che Prato non si sia reso conto di potere essere il fulcro di tutta quanta la potenzialità di incontro di un territorio che poteva trovare qui a Prato una ragione di aggregazione di protagonismo ha fatto perdere a me più di dieci anni di vita nel senso che avrei potuto operare molto meglio nelle mie attività anche di impresa se Prato avesse avuto questa funzione forse mi sono spiegato male vi faccio un esempio io stasera sono partito da Marina di Massa per arrivare a Prato ma soltanto perché mi è arrivato in ufficio un invito ma voi pensate che un museo possa vivere di inviti sapete che nella sola città di Sarzana esistono oltre 22 compagnie amatoriali di teatro in uno dei paesini più piccoli della Versilia due scuole di teatro hanno una capacità internazionale di fare arrivare dall'estero un certo numero di persone insomma noi viviamo con un potenziale notevolissimo che non ha un fulcro di aggregazione Prato con questa struttura potrebbe esserlo e mi auguro veramente che lo diventi ciao sono Carles Marco io faccio il curatore anche con altri e volevo chiederti che pensi di musei che portano perché hai parlato prima della moda io ho visto al Maxi a Roma una mostra di moda bellissima di recente ci sono anche altri inserimenti di musica teatro danza insomma che ne pensi di questo allargamento dell'attività del museo d'arte contemporaneo quello è l'allargamento inevitabile perché ci sono e dovunque il problema è che ci deve essere un equilibrio se un museo diventa solo un luogo di danza un museo di arte contemporanea è chiaro che spiazza quelli che vogliono andare a vedere l'arte nei musei credo che tantissime attività tutti i musei hanno diverse attività quindi la moda la danza il cinema fanno parte del museo vanno tutte coordinate in modo che possano funzionare all'interno di una struttura e abbiano un criterio seguano un filo logico questa è la cosa più importante la prima domanda la rivolgo a Cavallucci mi sembra aver ricevuto un invito in cui si sarebbe dovuto parlare del problema dei musei se c'è abbastanza spazio ancora nelle opere io ho avuto un'email mi pare che questo io l'ho ricevuta e questo tema non sia stato trattato ed ero venuto per questo ma non è importante questo non è polemico quello che sto dicendo la seconda cosa è che mi pare che il Bonami che stimo molto ho letto un paio di suoi libri mi sono piaciuti moltissimo però non ha risposto alla domanda molto precisa che gli ha fatto Palli cioè questo museo è cominciato molto bene a un certo momento è finito abbastanza male e sarebbe interessante che qualcuno fuori dai denti senza la solita diplomazia inconcludente dicesse è andato male perché per esempio c'era un direttore coglione questa è un'ipotesi possono essere stati due tre quattro la terza cosa che voglio dire e smetto poi lei prima ha parlato di formula uno in modo appropriato ora io a volte ho la sensazione che l'arte contemporanea sia diventata una specie di formula uno in cui si citano sempre i soliti nomi ci si accapiglia intorno ai soliti nomi vengono portati avanti sempre i soliti nomi sarà poi interessante sapere tra dieci o vent'anni quanti di questi padreterni saranno così importanti come sono oggi sarà anche altrettanto importante sapere quanti artisti in questa logica da formula uno sono stati esclusi sull'altare di questi padreterni vorrei fare una considerazione finale cioè la formula uno serve anche per vendere auto normali ora la mia sensazione su come sta io sono anche un collezionista su come sta andando avanti l'arte contemporanea oggi sia quella proprio che non sta vendendo gli altri artisti cioè non sta come dire pubblicizzando promuovendo quelle che si limita solamente a promuovere le star concludo dicendo che Cavallucci durante la prima riunione che fece per il museo disse che il suo scopo principale era quello di riportare l'arte tra la gente mi sembra una grande sfida e mi auguro che ci riesca non comunque continuando a promuovere i soli le solite star o le soliti campioni di formula grazie ora dire che i direttori erano coglioni non mi permetterei mai secondo me sono stati scelti male i direttori sono stati nel tempo secondo me scelti male nel senso che anziché dar il centro a dei giovani curatori che potevano trasformarlo in un a poco a poco in qualcosa di dinamico sono stati scelti curatori un po' come i calciatori che vanno a giocare in Giappone curatori che avevano a volte un grande passato curatori che avevano fatto delle grandi cose che però non avevano più il polso della contemporaneità o il polso delle cose e nemmeno gli stimoli per fare qualcosa di sperimentale e quindi questo l'errore probabilmente è stato quello quello di non volere in fondo a un certo punto trasformare questo museo in qualcosa di più propositivo e con tempi più lunghi di successo si è chiamato un direttore dietro l'altro che però non è riuscito non sono riusciti a farlo partire riguardo alla Formula 1 la Formula 1 ci sono tantissimi artisti che vengono promossi il problema non è soltanto degli artisti o di chi li promuove questo è un problema tipicamente italiano che tutti vogliono gli stessi artisti e tutti vogliono Anish Kapoor tutti vogliono Andy Warhol tutti vogliono quei quattro artisti per fare le mostre e quindi questo è un serpente che si mangia la coda perché non poi il sistema il sistema delle istituzioni il sistema museale si incarta perché poi quante mostre di Warhol si possono fare quante mostre di Anish Kapoor si possono fare quante mostre di che ne so Damon Hurst si possono fare o di Jeff Koons si possono fare se possono fare poche e di solito in Italia vengono fatte anche male quelle che vengono fatte e quindi che cosa il problema non è tanto il problema della mentalità che non si vuole essere propositivi si vuole essere soltanto reattivi e quindi si presenta a un pubblico dei nomi famosi che sono sono profezie che si autoavverano si fa una mossa di Warhol c'è la fila davanti alla porta e questa è la dimostrazione che quella era la mossa che si doveva fare no è la dimostrazione che se si fa soltanto una mossa di Warhol la gente viene a vedere la mossa di Warhol e alla fine è come il McDonald's se si mettono in città tutti i McDonald's e si levano tutte le trattorie alla fine la gente vorrà solo McDonald's e questo è un problema io mi permetto di aggiungere qualcosa visto che anche sono stato chiamato in causa anche su la visione come dire le ragioni per cui il PECI non ha o ha funzionato devo dire non sono completamente d'accordo con con la visione di Bonami o almeno con questa ultima non credo che sia tanto colpa dei direttori perché se andiamo a vedere i programmi almeno in alcuni anni qui sono state fatte mostre di artistiche sulla carta e credo anche poi alcune le abbiamo viste insomma sono state mostre importanti da Gerhard Richter il Klein senza parlare di artisti anche in qualche caso più giovane eccetera c'è ma questo l'hai detto in qualche modo anche forse non solo un problema strutturale un problema logistico che probabilmente all'inizio non si è pensato e forse all'inizio non era nemmeno influente perché poi i musei d'arte contemporanea in Italia e in Europa erano pochissimi quindi uno andava a Rivoli pensa un po' cosa vuol dire andare a Rivoli cioè vuol dire che da Milano che è il posto più vicino ad una città non particolarmente centrale come Torino deve andare a Torino e da Torino salire sulla collina e andare magari in taxi perché non c'è neanche l'autobus andare a Rivoli e lì e quello era addirittura il primo centro per l'arte contemporanea perché questo era solo il secondo quindi come dire aveva in quegli anni effettivamente in Italia tra l'altro in una nazione in un territorio che sappiamo bene non dico ha difficoltà di collegamenti però è più facile spostarsi in automobile che non con i mezzi pubblici per un fatto proprio strettamente logistico quindi in quegli anni ecco poi evidentemente i direttori che si sono succeduti consigli d'amministrazione forse non hanno affrontato negli anni buoni o non sono riusciti perché poi magari uno lo sa ma non riesce ad affrontare quello che è uno dei problemi strutturali ovvero i collegamenti e se noi pensiamo banalmente al pubblico di giovani turisti che si trova a Firenze in questo momento a quest'ora alle sette e mezza di sera non dico non sanno cosa fare ma i musei sono chiusi se ci fosse un collegamento facile per arrivare qui è un evento è una mostra importante interessante magari coronata da un evento musicale performativo o di danza come si diceva io credo che questi giovani non solo i giovani anche gli altri verrebbero in fondo diciamo la verità anche il numero di persone perché adesso qui chi diceva prima è vuoto ma è vuoto perché stiamo usando proprio per mostrare l'ala nuova e vogliamo farla vedere nella sua interezza ma signori qui siamo almeno 200-250 persone se questo mi sembra vuoto io credo che in realtà insomma allora i giudizi sono un poco diversi quindi io credo che anche questa sera dia il segnale di una potenzialità di una possibilità che però non si può risolvere solo con gli artisti e con le mostre perché ci sono dei problemi strutturali e questi problemi vanno affrontati sul piano come dire della realtà dei trasporti creare un sistema di trasporti da Firenze o da altre città della Toscana che consenta a chi vuole di arrivare a qualsiasi ora quanto poi sull'incontro sull'argomento dell'incontro io credo che stiamo effettivamente dibattendo quello che ci siamo detti che abbiamo detto nel comunicato se abbiamo detto che vogliamo affrontare il problema delle istituzioni se ospiteranno ancora quadri o opere beh in qualche modo l'abbiamo affrontato è una domanda a cui Bonami Francesco Bonami ha risposto in diversi modi se però qualcuno vuole ancora rifagliare è libero di farlo perché ancora la parola è al pubblico quello che Cavallucci ha detto che è interessante è questo perché prima ho citato il museo Guggenheim di Bilbao che tutti pensano che sia questo soltanto l'edificio di Frangheri che ha portato una quantità di persone incredibile nella città di Bilbao che non è una città centrale no prima di fare il museo la città di Bilbao insieme al museo ha costruito ha rivoluzionato l'intero tessuto urbano di questa città che era una città cupa triste e cose intorno al museo di Bilbao ha costruito infrastrutture ristoranti mezzi di trasporto metropolitane ha creato tutto un tessuto intorno al museo che ha fatto diventare il museo il centro chiaramente di attrazione però servito e reso vivo da tutta una cosa che noi non vediamo noi non vediamo tutto quello che c'è attorno al museo di Bilbao e quello credo che quello sia il punto forse dove qui è stato sbagliato nel senso che qui forse doveva essere costruito tutta compreso in una sinergia con Firenze una rete anche di trasporti che potesse far diventare questa cosa accessibile e appetibile a un pubblico vasto capisco che non sia semplice capisco che sia complicato farlo farlo è chiaro che non si può costruire soltanto un museo senza pensare a quello che ci sta attorno quello è il problema forse è stato l'errore quello ma la comunicazione non è vero perché la comunicazione poi la gente in quello è curiosa ma è anche abbastanza pigra quindi non è che se c'è una difficoltà di accessibilità ai luoghi uno poi alla fine non ci va non ci va a Milano come non ci va a Firenze come non ci va a Roma credo che la vitalità di un luogo sia dovuto anche sia alla programmazione ma anche a quello che ci sta attorno io nulla ma sì io volevo proseguire un po' il dibattito sul tema della serata proseguendo il ragionamento sulla fotografia del sistema dell'arte contemporanea che ha fatto Bonami anche a partire dalle sue esperienze a Chicago e mi era parso di poter vedere un po' due aspetti che si sovrapponevano nella sua esperienza ma anche nel sistema contemporaneo dell'arte quello da una parte quando ci diceva il ruolo che i collezionisti avevano nel suo museo e che in qualche modo essendone finanziatori lo promuovevano e cercavano una sorta di visibilità pubblica all'interno della città per il loro ruolo di potenza economica e di immagine e dall'altra ci diceva anche della necessità che sentiva in quanto responsabile di un museo di creare una mediazione tra l'arte e il pubblico una sorta di ruolo pubblico del museo da un certo punto di vista possono andare insieme ma possono anche essere distinti questi due aspetti se consideriamo da una parte questo ruolo dell'arte come esibizione di una sorta di potere anche al quale necessariamente si lega per potersi sostenere da sempre i più grandi mascenati sono necessariamente le persone più ricche dall'altra parte questo ruolo più recente del museo come divulgatore pubblico come ruolo pubblico di mediatore dell'arte contemporanea ecco non so se nella tua visione in questa visione narrativa e orale del futuro seguendo anche la suggestione di Cavallucci che ci diceva questo ruolo del museo come capacità di accompagnare l'innovazione e questi cambiamenti che si stanno realizzando ecco nella tua visione è semplicemente una funzione di mediatore quella che puoi svolgere o contribuisce a questo possibile ruolo pubblico di critica e di sospinta verso il futuro grazie il ruolo di mediatore è anche un ruolo anche di tentare di presentare dei linguaggi dei metodi nuovi di fruizione delle opere d'arte anche di apprezzamento delle opere d'arte non so bene come rispondere a questa domanda perché credo che il ruolo del museo sia un ruolo pubblico in assoluto e credo che sia uno strumento di orgoglio urbano un museo che funziona un museo che diventa un luogo dove la gente vuole andare perché la gente in fondo vuole stare la gente va nelle grandi come si chiama centri commerciali per comprare le cose ma anche perché molti vogliono hanno questo senso di collettività di esperienza collettiva e credo che il museo lo vediamo appunto nei grandi musei sia anche questa esperienza collettiva che va attivata e va curata va spinta va implementata da parte delle istituzioni dei musei quindi io credo che il museo abbia una funzione fondamentale nel tessuto di una città sociale urbano e così via quindi ha un ruolo molto importante fondamentale poi però anche bisogna crederci grazie scusi posso fare una domanda un po' al lato di tutto quello discorso fra le tante cose che lei ha fatto le ha fatte quasi tutte ha fatto l'artista ha fatto il curatore ha fatto il direttore ha fatto un po' tutto la nuova cosa che penso possa chiedere se può dare risposta è quella che sta organizzando veramente una cosa nuovissima che nessun curatore ha mai fatto di arte italiana in America se può confermarla e se è vera la storia che uno legge si si è vero organizzerò ad aprile poi a maggio una mostra di arte contemporanea di arte italiana dall'inizio del novecento ai giorni nostri che poi diventerà una grande asta per Philips partendo dall'idea che secondo me l'arte italiana è stata estremamente sottovalutata da tanti punti di vista anche quello economico sul mercato internazionale credo che in America ci sia un grande collezionista un pubblico molto pronto a conoscere l'arte italiana in profondità non solo i soliti nomi noti come Burri Fontana e Manzoni che sono quelli di cavalli di battaglia del mercato è una sfida perché non ne so i risultati non so come andrà a finire però credo che sia interessante è un progetto che dentro di fare appunto con un mezzo appunto demonizzato come quello delle aste a cui però tutti poi alla fine bene o male guardano e quindi credo che l'arte italiana abbia bisogno anche di un momento venale come questo per essere rivalutata anche da un punto di vista di contenuti una curiosità agli anni fino a che anni arriva fino a che anni quando ci sono opere d'arte buone fino al 2015 ma non ci sono buonasera ma non è mia purtroppo buonasera io forse mi sento fuori luogo qui si parla di museo ok però sono arrivato mi sono guardato intorno e vedo che l'età media è intorno ai 50 anni cioè i ragazzi i giovani dove sono no lì ce ne sono ecco sono due dietro forse sì ma sono pochissimi 5, 6, 7, 8 9 ancora non li ho sentiti quella è la percentuale italiana siamo un paese dove l'età media è 50 anni partendo da questa provocazione volevo dire il per quanto riguarda i giovani innanzitutto le do ragione per per quanto riguarda la locazione e per quanto riguarda i mezzi di trasporto che sono fondamentali noi tutti siamo pigri in un modo e in un altro per tanti punti di vista ma il giovane se sente il nome museo che cosa gli viene in mente cioè non parlo io parlo dei giovani che lei forse ha fatto riferimento parlo di quelli giovani che sono poi qui ci sono tanti tante persone che hanno magari molti anni però sono giovanissimi dentro e altrimenti forse non sarebbero qui stasera o si sono spostati e hanno fatto chilometri proprio perché credono in certi aspetti ma il giovane secondo me se sente il nome museo sente un posto dove c'è c'è la roba poi poi magari lei è uguale museo teatro cinema ma è la stessa cosa ecco bravissimo lei ha fatto un riferimento con altre realtà che sono fuori da questi spazi fuori dalla mentalità un po' chiusa italiana perché forse soffriamo dell'arte perché ce l'abbiamo un po' ovunque un po' tutto intorno perché per secoli abbiamo prodotto arte e oggi guardare queste cose nuove io non chiedo di avere un'idea condivisa con il mio pensiero però volevo offrire un punto di vista un po' diverso cioè lei ha parlato di quello che sarà il futuro dell'arte bene io le posso dire io non ho detto neanche il mio nome non mi interessa diventare famoso io faccio racconto storie con immagini attraverso tecniche moderne che è la tecnica digitale però per campare disegno tessuti a prato e vivo a 80 chilometri da qui e stasera sono uscito dal lavoro sono venuto per ascoltare qualcosa di nuovo penso che ci sia qualcosa di nuovo questo almeno da quello che ho percepito però io non so se realmente poi come se facciamo in Italia questo nuovo rimarrà qui nei proclami e poi ci guardiamo intorno e arrivederci grazie scusate se vi ho a proposito dei giovani ho letto il libro mamma voglio fare l'artista e che cosa direbbe sinceramente un ragazzo che oggi si vuole porre di fronte al panorama internazionale dell'arte non sa come fare che vuole fare l'artista e poi una seconda domanda riguardo alla fine del ciclo dell'arte contemporanea secondo lei e l'inizio di nuovi linguaggi ecco un approfondimento su tutte e due le domande a un giovane che vuole fare l'artista devi provare a fare l'artista e vedere se lo fa bene o lo fa male poi quello non è che sono delle regole precise quello ahimè lo dico sempre che essere artisti è un po' come essere sportivi c'è chi corre in un modo e chi corre in un altro chi corre veloce e chi corre piano questo non vuol dire che uno non debba smettere di correre perché non corre da olimpiadi però deve essere anche realista che se non corre veloce non potrà partecipare non sarà un campione delle olimpiadi ma questo non vuol dire che uno non si goda la corsa ugualmente riguardo alle nuove tecnologie mi dicono sempre digital art mi dicono sempre video art street art c'è un equivoco non è questione di attaccare un nuovo terminologia alla parola arte perché c'è c'è cattiva street art cattiva video art cattiva digital art e un tempo quando hanno inventato il telefono non è che hanno cominciato a dire a cantare le opere al telefono era diventata telephone art non si è mai detto la pennello art parlando di pittura o lo scalpello art in termini di scultura oggi c'è questa mania di dire un artista molto bravo se uno va a vedere la digital art la maggior parte delle volte sono delle cose di arte orribile fatte in modo digitale oppure anche la street art è arte orribile fatta per la strada poi ci sono dei bravi artisti che sanno dei bellissimi murales per la strada adesso no però ecco quello lì non mi affiderei come artista alla nuova tecnologia come ho detto prima la tecnologia è uno strumento che ti aiuta a dire una cosa se poi diventa soltanto una dimostrazione del mezzo tecnologico è irrilevante scusate io volevo fare una piccola premessa cioè è vero che se un museo è in mezzo al niente quindi non ci sono mezzi per arrivarci se non ci sono altre strutture che possono invogliare la gente è problematico arrivarci però io penso che anche i contenuti siano importanti perché se si continuano a far vedere scatole di scarpe o polverine dei quadri senza quadri la gente cosiddetta non addetta ai lavori non viene a vedere un museo sapendo che cosa c'è dentro iniziamo a far vedere artisti internazionali come Muec o come tanti altri allora forse si può riportare la gente nei musei nonostante non ci sia poi niente intorno si su Muec ho le mie opinioni personali capisco che sia che le piace a lei a me piace no ma quello abbiamo detto prima che bisogna trovare un modo di coniugare delle opere d'arte che tentino di sperimentali come chiamavano voi con anche mostre una programmazione che sia più a portata di pubblico di un pubblico generale che vuole entrare in un museo per vedere delle cose più a portata di mano ma ci sono tantissimi artisti che lavorano oggi e che sicuramente avrebbero un pubblico molto vasto anche chi non è esperto di arte quindi la programmazione è fondamentale di un museo e come programmazione uno deve pensare a delle cose che parlino una comunità normale io volevo appunto ribadire la mancanza di comunicazione e di integrazione soprattutto con la nuova generazione di artisti e non artisti anche semplici persone che vengono a vedere un museo io studio all'accademia di belle arti e sono qui stasera semplicemente perché un mio professore mi ha detto guarda c'è questa cosa se ti interessa vieni studio arte già ormai da qualche anno e in tutti questi anni non c'è mai stato credo un modo anche rispetto alle scuole che ho frequentato di avere proprio un'integrazione con questi posti ecco io credo che fino a che il museo anche un grande museo come questo rimarrà un posto d'elite per grandi artisti come Andy Warhol o Domenist non ci sarà mai una vera congiunzione tra chi sta dentro al museo tra chi pensa e spera un giorno di poter diventare un artista tutto qui ecco non è una è una considerazione di una persona giovane probabilmente anche con molta meno esperienza rispetto a tutte le persone che sono qua però ecco ci tenevo solo a dire che è fondamentale secondo me partecipare un attimino di più comunicare di più integrare proprio anche persone giovani persone che studiano magari persone che non faranno niente in un museo però che perlomeno ci credono ci sperano ecco tutto va io qui scusa penso che la domanda è rivolta a Pec e più rivolta a me in questo caso e devo purtroppo contraddirti ma proprio perché sei giovane perché in realtà e per carità io sono arrivato da pochi mesi ma proprio in passato l'Accademia di Belle Arti di Firenze ha avuto un rapporto molto stretto anzi vedo qui dei docenti che ringrazio perché in passato e ora continuano a cercare ad avere un rapporto molto stretto con il centro Pecci addirittura ci sono stati dei corsi che si sono svolti qui per alcuni anni poi diciamo la verità siccome sono stato studente di Accademia anch'io tra i miei peccati come quello di Francesco poi non sono arrivato ad essere un artista però ecco l'Accademia di Belle Arti l'ho frequentata questo è quello che mi ha fatto decidere di smettere di fare il pittore e quindi di passare ad altro mestiere ma questa è altra storia ma in realtà so bene che spesso dipende anche da noi cioè non dico di te in particolare però se un giovane è un poco curioso si guarda in giro scopre se vicino a qualche un paio di decine di chilometri di distanza c'è un museo che sta facendo delle cose perché altrimenti stiamo parlando della stessa materia non stiamo parlando di un giovane che studia arte e deve scoprire che esiste che so un centro di scienza di nanotecnologie stiamo parlando di uno studente che studia arte e che deve solo capire capisco che ci voglia un po' di tempo perché non è facile uno si trova in un mondo che deve in qualche modo scoprire passo a passo un po' tentoni ma poi capirà che a un certo punto qui c'è un centro che fa delle iniziative e che quindi queste iniziative si possono frequentare sono aperte a tutti e vi garantisco in futuro senza dubbio ma in passato senza altro sono apertissime ai giovani e ai giovani studenti dell'accademia di tutti coloro che sono stufi di guardare la televisione che non ne hanno più il desiderio di andare a passeggiare a passeggiare senza senso creiamo un centro vivo una agora dove dai territori dai quali si arriva in un'ora ci si possa incontrare a fare politica di vita non soltanto scusatemi insegnamento ai ragazzi dell'accademia importantissimo non soltanto a fare vedere meravigliosi lavori importantissimo ma creare un centro di vita se io mi sto spiegando male vi ripeto che vecchissimo come sono sto frequentando decine di creature umane che se potessero avere un centro di incontro di non solitudine un centro come in altri tempi esiste a Parigi io andavo e trovavo in certe vie la vita più tardi a Roma qui c'è un deserto malgrado si abbia un meraviglioso centro fisico e intellettuale come i peci bene è ovvio che non si sta accusando nessuno io forse accuso me stesso vediamo di dare un colpo di coraggio a questo museo facciamolo diventare il punto di riferimento della vita mentale intellettuale e politica non perché ci sia il presupposto molto probabilmente politico in queste zone dove a benaltro guarda la politica ma perché c'è la necessità sì buonasera sono Filippo a 30 anni sono un curatore un organizzatore di mostre un ufficio stampa un gestore di di tutto di più mi sono ritrovato insomma a ricoprire tutti questi ruoli perché obiettivamente per una carenza anche formativa dell'offerta dell'istruzione pubblica italiana non riesco a trovare delle persone ecco con cui mi trovo bene ora vabbè detto che questo era un po' provocatorio all'inizio volevo fare una considerazione veloce sul discorso di museo punto d'incontro insomma museo punto di riferimento secondo me un museo per essere un punto di riferimento nel 2015 in una città quindi integrato bene in un territorio deve essere presente sul territorio non solamente con il proprio spazio fisico del museo ma anche portando l'arte magari che fa parte della propria collezione nelle piazze della città creare un dibattito pubblico creare un'offerta pubblica visibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 durante tutto l'anno di modo che la gente si abitua anche a vedere questa questo fantasma di arte contemporanea che tanto se ne parla e nessuno capisce cos'è ok un altro invece punto su cui mi volevo incentrare e magari questa è anche una domanda mi è piaciuto molto il discorso della staffetta io non vedo l'ora di togliere il testimone dalla mano di qualcuno sarebbe molto bello secondo me adesso per una persona come me che quindi ha 30 anni e fa mostre ne ha fatte diverse ha un progetto al confini tra galleria e curatore e attualmente vengo da un'ultima mostra che ho fatto in uno spazio incredibile a Prato che è una chiesa del 1200 sconsacrata a Navata Unica una chiesa perfettamente si vede benissimo una chiesa antica per cui integrata anche con struttura integrale con struttura ho fatto una mostra con tutti gli artisti sotto i 30 anni che sono andato io personalmente a conoscere all'Accademia di Belle Arti di Firenze e quindi in questo caso sono stato io a muovermi personalmente per andare a cercare gli artisti ecco però una mostra del genere in un sistema dell'arte conservatore perché il sistema dell'arte italiano ma internazionale soprattutto in Italia è conservatore diciamo che solitamente sono sempre le stesse persone insomma come è venuto fuori anche nel resto della discussione che girano nei musei più che nei musei appunto nelle aste come può una persona inserirsi in un settore talmente limitato soprattutto in Italia presentando anche delle proposte secondo me coraggiose perché comunque andare a cercare degli artisti giovani giovani perché sono giovani sotto i 30 anni dai 22 ai 29 ho trovato degli artisti interessanti come posso confrontarmi con questa realtà poi un'ultima cosa questa è la domanda un'ultima considerazione veloce veloce prima ho sentito parlare del maxi a me quando io quando ho sentito parlare del maxi mi gira un po' le palle perché sono andato mi sembra un anno fa ora non mi ricordo quando ho ripreciso a vedere una mostra di un artista che io adoro che si chiama Ettore Spalletti che è tutto contento di andare a vedere una mostra in maxi di Ettore Spalletti e ho visto che c'era solo una sala dedicata a Ettore Spalletti con otto opere vabbè che male non fa però insomma uno pensa a una mostra di Ettore Spalletti e invece si trova una sala e basta e in contemporaneo c'erano addirittura otto mostre di altrettanti artisti una cosa incredibile io sono entrato lì dentro ho fatto far camicie chi vi dà tutti i soldi per fare queste mostre mi sembra incredibile e poi scopro invece che anche lì è una sala dedicata per ogni artista quindi otto piccolissime mostre che sicuramente sono alto da un punto di vista quantitativo ma qualitativamente io ci sono rimasto molto ecco molto deluso questa è l'ultima considerazione ecco stop grazie c'è una domanda qual'era si come si fa entrare nel sistema insomma si fa si fanno le mostre si fa se gli artisti sono veramente interessanti qualcuno se ne accorgerà e quindi da lì una cosa viene all'altra se non sono interessanti non si fa bene se c'è ancora una domanda l'ultima diciamo sono già le otto quindi possiamo interrompere bene allora io credo che sia stata una bella occasione un bell'incontro ringrazio Francesco Bonami per essere qui grazie grazie